Finisce 0 a 3 il derby tra Calpazio e Agropoli. Le reti portano la firma di Margiotta, Doppietta e di Natiello sul solito calcio di punizione. L'Agropoli per intensità e ritmo sfoggia un gran primo tempo che chiude con il doppio vantaggio grazie alla rete del capitano al ventottesimo su assist di Natiello a margine di un contropiede perfetto e della punizione dello stesso Natiello bravo a sorprendere il portiere locale sul proprio palo. Nella ripresa i padroni di casa partono bene ma i delfini amministrano e trovano il Tris sempre con Margiotta poco prima della mezz'ora. Con la vittoria l'Agropoli resta al comando della classifica del girone C del campionato di eccellenza con una lunghezza di vantaggio sul San Marzano.